Ancora non si sono spenti i ricordi della notte bianca ed ecco a San Giovanni la serata in Viale Gramsci. Musica ed eventi sino a mezzanotte per un appuntamento ormai giunto al primo lustro di vita. In scena ed in strada si va venerdì 26 giugno. È tutto pronto, aspettiamo solo una bella giornata di sole e quindi una bella serata che inviterà i sangiovanesi e non solo a prendere parte a questa iniziativa. Non mancherà niente nel senso che avremo iniziative per i più piccoli, per i ragazzi e anche per le persone adulte perché ci sarà il DJ, ci sarà la Zumba, ci saranno le orchestre, ci sarà uno spettacolo del fuoco itinerante. Avremo laboratori didattici con giostre gonfiabili per i più piccoli. Poi abbiamo questo attore di teatro che verrà a trovarci e farà uno spettacolo intorno alle 21, appunto in particolar modo sul personaggio di Mr. Bean. Siamo alla quinta edizione quindi quando una iniziativa dura così tanto significa che incontra l'interesse e l'apprezzamento degli operatori. D'altra parte è diventato un appuntamento di inizio estate qui per San Giovanni. Valorizza una strada importante del commercio. Le aziende hanno necessità di proporsi alla città e anche ai comuni di Mitrofi sperando appunto che questo favorisca il rilancio dei consumi di cui c'è tanto bisogno. Classico appuntamento dunque di inizio estate per il comune. Una piccola coda della Notte Bianca però è un appuntamento importante perché coinvolge le attività di una strada molto transitata di San Giovanni dove sono presenti tante attività commerciali e tanti operatori. Per noi è un modo anche per far scoprire San Giovanni, per correrla a piedi, viverla in maniera approfondita e è un momento anche di coesione sociale fra i nostri cittadini, naturalmente anche per chi viene da fuori che sono sempre molto ben accetti. Come sempre a disposizione il parcheggio in Piazza Palermo per tutti gli avventori dato che Viale Gramsci chiuderà già dal pomeriggio.